Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Florence TV in studio Nicola Giannattagio. Sulla A1 in direzione Roma per traffico congestionato ci sono 4 km di coda tra Monte San Savino e Baldichiana. Sempre in direzione Roma ma per traffico intenso rallentamenti tra Barberino e Calenzano. In direzione Bologna per la chiusura delle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta. Sulla FIPILI per lavori 3 chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna in direzione Firenze. Sulla statale Trebbis Tiberina per lavori sono chiusi gli svincoli di Val Savignone e Sansepolcro Sud in direzione Ravenna. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!